E' più sofisticata la domanda? Quindi questa si sta chiedendo ma come varia il modo della tensione a muoversi dalla particella? Quanta è la tensione qui? E' una domanda da 19 Qual è la tensione in un altro punto? E' una domanda da 22 Sono domande semplici alla quale voi dovete arrivare non tanto nei passaggi ma nella fisica che ammonte quindi di nuovo l'esercizio si fa in due modi cioè si usano due concetti per arrivare alla risposta in maniera semplice uno è la conservazione dell'energia cioè io so che lui parte da fermo l'energia cinetica è zero ma ha una certa energia di posizione nel suo muoversi la posizione cambia l'energia di posizione cambia ma cambia anche l'energia di movimento ma cambiano in modo che la somma rimanga al valore iniziale il valore iniziale era l'energia di posizione lui scende cambia la sua energia di posizione cambia anche l'energia cinetica quant'è l'energia cinetica qua l'energia cinetica qua partendo da fermo l'energia cinetica qua è solo dato da mg per il dislivello ma il dislivello quant'è? il dislivello quindi è la differenza di quota tra questo punto e questo punto qua se chiamo questo y uguale a zero che è una scelta naturale in questo esercizio questo punto qui questo cateto rappresenta la sua quota e quindi è r coseno dell'angolo da cui è partito quindi attenzione teta zero è l'angolo da cui parte e teta è l'angolo generico a cui si trova una volta che è partito quindi questa quota è questo questa quota è questa qua è r per questo cateto qui è r per il coseno di questo angolo quindi chiaramente il dislivello è r coseno di teta meno coseno di teta zero quindi la conservazione dell'energia mi dice che l'energia cinetica nel punto teta è uguale a mgr mg e questo è il dislivello ok? questo qua è il dislivello dislivello perchè la versione dell'energia cinetica è quella? perchè l'altro lavoro che in linea di principio c'è il lavoro fatto dalla tensione del filo in realtà è nulla perchè la tensione del filo è istante per istante la prendo io lei è ferita la tensione nel filo che c'è in ognuno di questi punti nel suo moto lunga traiettoria è sempre a 90 gradi rispetto allo spostamento della sua traiettoria quindi la tensione del filo non fa lavoro fa lavoro solo a forza peso quindi conta solo il dislivello l'altro pezzo che serve per arrivare a quanto vale la tensione è la dinamica del moto circolare la dinamica motocircolare è se voglio muovermi lungo un cerchio ho bisogno di una forza centripeta rivolta verso il centro la forza centripeta netta che devo avere il risultante è mv quadro diviso r ma quella forza netta è la risultante di due forze in competizione uno è la tensione del filo che tira verso il centro e l'altro è la parte della forza peso che punta via dal centro quindi la forza peso è nella direzione opposta alla tensione del filo la parte della forza peso attenzione e quant'è la parte della forza peso che stiamo trattando? mg coseno di teta dove teta è l'angolo a cui il corpo si trova d'accordo? quindi questa è la dinamica del moto circolare notate il segno meno chi entra col segno più? entra col segno più la tensione è verso il centro quindi lui per convenzione è positiva perchè la direzione è positiva è verso l'interno della curva la parte della forza peso che invece è a fare ha un segno meno perchè si allontana dal centro della curvatura come potete vedere dal disegno che avevo fatto prima questa è la forza peso questa parte della forza peso non è nella direzione positiva la direzione positiva è questa questa è Udm questa entra con un segno negativo invece la tensione entra con un segno più deve essere chiaro quello se sbagliate i segni se dite che la t è negativa e la forza mg coseno è positiva sbagliate tutto poi mettete assieme queste due il primo si manipola così si ottiene che mv quadro diviso r è uguale 2mg per questo vedete che ho portato questa r qua sotto e la 2 sopra quindi questa equazione qui viene direttamente dalla conservazione dell'energia prendo questa e la metto qui se volete quindi dico che t è uguale a questo più quindi la sostituisco dentro con qualche passaggio di matematica vedete vedete che la tensione nel filo sapendo che era partito dall'angolo θ0 guardate l'ho usato questa formula qua la tensione nel filo all'angolo θ quando era partito da θ0 uso questa notazione è una notazione basta che io vi dica adesso cosa intendo con questa scrittura intendo dire la tensione quando il corpo si trova all'angolo θ sapendo che era partito da fermo dall'angolo θ0 questo è uguale a questo più questo va bene abbiamo capito quindi la tensione qua all'angolo θ partendo da θ0 è uguale a questo un po' di passaggi matematici vedete che questa roba qua è questo vedete che ho mg coseno quindi mg coseno 2 mg coseno quindi questi fanno 3 mg coseno e poi c'è meno 2 mg coseno θ0 θ0 l'angolo di partenza ok? metto in evidenza la mg e ho 3 coseno 3 coseno meno 2 coseno θ0 e vorrei che questa è la formula generale vi da la tensione nel filo quando è qui e dovrebbe coincidere con il risultato che abbiamo calcolato poco fa quando il corpo si trova qui se guardate sugli appunti la tensione del filo quando si trova qua nel punto più basso essendo qui si direbbe in italiano lui parte da θ0 la tensione del filo quando è nel più basso la formula che abbiamo calcolato è questa che quando la svolgete vedete 1 più 2 per 1 poi 2 meno questo è un 3 quindi le formule x coincidono coincidono quando l'angolo che vi interessa è l'angolo più in basso che corrisponde a 0 gravi? l'angolo più in basso è quando l'angolo è 0 perché misuro gli angoli dalla verticale quindi coseno di 0 vale 1 notate come questo è l'esercizio generale lo chiederò è già un po' più sofisticato ma più di tanto quindi tra un 18 cosa sarà un 19 un 20 non esageriamo è semplice è la stessa roba dovete aver chiaro perché la forza peso è una forza conservativa dovete aver chiaro la dinamica motocircolare fatti chiari e amicizia lunga fatti chiari e amicizia lunga questa è la terza ora giusto? è la seconda? ce n'è un'altra dopo questo? non muoio non vi faccio interamente questo esercizio ma voglio che l'ho impostato assieme a voi purtroppo non ho uno spago e un sasso applicato spago ma immaginate io stiamo facendo così avete un sasso che sta facendo un moto circolare nel piano verticale quindi il piano della lavagna il piano verticale sta facendo un moto circolare eccolo qua è un cerchio accettabile facciamo finta che lui quando è qua giù chiamiamo questo il punto basso di nuovo chiamerò questo questo è il punto basso yb b anche per basso se volete e questa è la y a chiamiamola y a per alto il raggio del cerchio sia r quindi c'è uno spago e la particella sta facendo un giro quindi immaginate che la velocità qui nel punto basso sia così e la velocità qua su ha un altro valore ovviamente è di là no? sta facendo un moto in questo modo quindi avrà un certo valore immaginate che questo sia la v di b e questo è la v di a ok? quando il corpo è nel punto b questo è il centro ci sarà una tensione del filo che chiamiamo t a è un vettore rivolto verso l'a quando è qui ci sarà una tensione chiamiamola tb non è detto che siano uguali tutte e due però sono rivolti verso il centro qual è la differenza tra le tensioni e il filo? sono uguali le tensioni? sono diverse? una è più grande rispetto all'altra? dove si rischia che il filo si spezzi? perchè se sono uguali può spezzarsi ovunque se uno è più grande l'altro magari dove il modo di tensione è più alto è là che rischia di spazzarsi come si fa questo? nell'andare da A a B la tensione del filo non fa lavoro solo la forza peso fa lavoro quindi l'energia cinetica varierà ma perchè varia? non perchè c'è la tensione del filo ma perchè varia la quota quindi KB-KA che è uguale a UdA-UdB UdB conservazione dell'energia in realtà la scrivo così KB-UdB uguale KA-UdA questa è la conservazione cioè che l'energia non cambia cos'è l'energia? è la somma di due tipi di energia c'è l'energia di movimento e c'è l'energia di posizione la somma dell'energia di movimento più l'energia di posizione non cambia mai quindi la variazione dell'energia di movimento uguale meno la variazione dell'energia di posizione quindi questa è la conservazione ai fini dell'esercizio la si scrive così quindi cosa sarà? siccome questo è questo è generale che sia la forza di Coulomb, la forza di gravitazione universale la forza peso, la forza di Huck questo finora questo vale per qualsiasi forza dove la forza è conservativa questo esercizio per qualsiasi forza per qualsiasi forza in questo esercizio la v di y è uguale a meno mg y più una forza quindi questo è l'esercizio Questa è la situazione Ho messo l'Y positivo verso il basso Quindi B e A per me vuol dire basso-alto Visto che è un moto in qualche modo ciclico Inutile chiamare il primo o il secondo Basta aspettare un po' che il punto di partenza diventa il punto di fine A e B per me vuol dire basso-alto in questa situazione Quindi la variazione di energia cinetica Tra il punto alto e il punto basso Basso e il punto alto è uguale a mg per il dislivello Scritto per esteso Adesso qual è il dislivello? Qual è il dislivello tra questo punto e questo? Se R è il raggio del cerchio Se volete R è la lunghezza di questo filo inestensibile Il dislivello è due raggi Quindi è il diametro Quindi mettete se volete 2R Ok? D'accordo? Il dislivello da qua e qua Questa è la conservazione dell'energia Cosa sapete del moto circolare? Della dinamica dei moto circolari? Sapete che quando la particella è qui Per fare la curva serve che ci sia una forza centripeta E la forza centripeta in questo punto qui la scrivo così M V Questo è il punto basso S Diviso R Questa è la forza centripeta Ed è la risultante di due forze Uno è la tensione del filo E l'altra è la forza peso Quando è in questo punto La tensione del filo è rivolta verso il centro La forza del peso è rivolta per esempio così Quindi Silenzio Questi sono i punti cruciali La tensione del filo per definizione è rivolta verso il centro Entra con un segno più Questa forza peso Entra con un segno meno Facile no? Quindi questa è la tensione nel punto B Mg Banale Scrivete adesso Imponete lo stesso tipo di equazione Cioè Cos'è la forza centripeta Nel punto alto Nel punto alto Avete che Ci deve essere una forza centripeta Per farlo fare la curva E la forza centripeta Adesso è così E di nuovo ho due forze che stanno agendo Ho la tensione del filo E ho anche Adesso questa l'ho desiderato un po' a mano libera Ma questa qua Questa forza peso Che adesso disegno qua La forza peso è meglio disegnare un colore diverso Vedi? La forza peso la disegniamo in verde E la tensione del filo E la tensione del filo disegniamo in rosso Ok? Questa è Questa è Questa è Pb Shhh Come scriverete la dinamica del moto circolare nel punto alto? Forza centripeta uguale La tensione entra sempre con il segno più Perché è rivolta verso il centro Ma anche la forza peso è rivolta verso il centro La forza peso è rivolta verso il centro Questa forza peso non è rivolta verso il centro Chi ha il segno più è la freccia rossa La freccia verde avrà il segno più o meno A seconda che sia concorde o meno con la freccia rossa Chi è rosso, chi è positivo è la rossa Ecco Questo è il punto cruciale Dovete guardare le frecce e quindi mettere un segno algebrico Come sono messe le frecce? Qua sono concordi, qua sono discordi Quindi qua hanno lo stesso segno algebrico Qua hanno lo stesso segno algebrico opposto Ma chi è il positivo? Il positivo è la rossa La tensione sempre rivolta verso il centro E' lui che si becca il segno più Ma già dal disegno dovete capire Che qua avranno lo stesso segno algebrico Qua hanno un segno opposto Quindi queste sono le vostre tre equazioni Una, due, tre Quindi per esempio Siccome la domanda è qual è la differenza di tensione Tra il punto in alto e il punto in basso Hanno la stessa tensione? Se no chi è quella che ha il modulo maggiore? Questa è la domanda Quindi io voglio sapere Ti è Tb e Ta e confrontarle No? Ah beh, facciamo questo esercizio Questo è vero Questo lo posso cancellare Fatelo voi prima che lo faccia io Immaginate una strategia molto analoga a quella che ho già applicato Per esempio da questa Voi avete che TdA TdB, scusatemi TdB uguale a questo più mg Allora questa cosa fate? Dividete per R e moltiplicate per 2 Quindi questa qua io potrei fare così Che è MvdB al quadrato diviso R Meno MvdA Nage a me Al quadrato diviso R E' uguale a 2 Vedete? Divido per R e moltiplico per 2 Quindi quando divido questo per R Questo per R R va via Moltiplico per 2 4mg Quindi questo meno questo E' uguale a 4mg Lo vedete? Yes? Siamo d'accordo? E quindi vedete Che TdB quindi Ta Questo meno questo è uguale a 4mg Quindi questo passaggio è inutile no? Non è che sia inutile È che lo vedo in un modo più semplice Questo meno questo è uguale a 4mg Quindi questo meno questo Questo meno questo è 4mg Lo abbiamo appena calcolato E questo meno questo cos'è? E' TdB meno mg meno Ta Td meno Ta Questo meno questo è meno 2mg Lo vedete? E quindi Td meno Ta è semplicemente il modo più veloce per ottenerlo E quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Td Meccanici Quindi Tb Non è uguale a Ta Qual è il punto dove si rischia di spezzarsi il filo? Quando è in basso? Pensateci 6mg E notate come 6mg 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 2 volte 3mg Giusto? Cioè 3mg Quindi è la tensione del filo quando passava sotto un pendolo A partire da 90 gradi Questo deve arrivare fino in cima Non è certamente oro colato questo Però fanno parte del Guarda caso Chissà se è un caso È un caso? No, non è un caso Solo che uno dovrebbe articolarlo e argomentarlo un po' meglio Ma non è un caso 6mg Quindi se voi fate così con la fionda Davide contro Golia Il filo che lui deve usare Il filo che lui deve usare Se voi volete fare una spesa Se volete uccidere Golia O almeno ferirlo Voi non credete alla pena di morte Lo mettete all'ergastolo Credete Golia Lo mettete in una prigione Il guaio è che in Italia L'ergastolo veramente non esiste Non è che uno viene condannato e non esce più No? Dopo 20 anni esce fuori Lo trovate dalla moglie di Costanzo Voi volete costruire una fionda per ammazzare Golia Avete un sasso Di una certa massa Quindi ha una certa forza peso E volete selezionare il filo In modo da reggere lo sforzo che dovrà subire No? Non volete che il filo si spezzi Allora Voi Per cobaldare il filo Non basta tenere il filo fermo Vi conviene prendere 6 masse Solo se regge 6 volte Allora avete la speranza che regga No? Tutto lì Va bene Facciamo un'altra Qualche considerazione Ma è interessante Io ho parlato con i ragazzi di tanti anni ormai No? Io non credo Tanto per fare qualche parola Che non abbia niente a che fare con la fisica Quando non parlo di fisica Potete ignorarvi comodamente Penso che io non credo nella pena di morte E la maggior parte degli italiani non credono nella pena di morte Come si chiamava il filosofo italiano che argomentò contro la fede di morte? Grande pensatore Però non ho ancora trovato una persona che condivide l'idea che uno possa ammazzare qualcun altro Magari non in un momento di rabbia Ma per esempio il maso, no? Quello che ammazzò i genitori per l'eredità E' già fuori, no? Ho fatto vent'anni E non riesco ancora a trovare qualcuno in Italia Che accetti questo La maggior parte della gente dice Ok, non ti toggo la vita Ti condanno a un orgasmo Un orgasmo vero Non esci più E perché invece questi vent'anni niente? Ok Vediamo se trovo i numeri Che ho indicato di stampare Nel vecchio quaderno Silenzio Per cortesia Mette cerco dei numeri Silenzio, silenzio Per cortesia Nei miei confronti per cortesia Eccoli qua Ok, vorrei spendere due parole Proprio due Di nuovo Tutto quello che sto facendo Ci sono ormai i power point Eh? Cosa sono le forze conservative Ci sono i power point I campi vettoriali Questa roba ormai in rete c'è Anche quello che sto per fare oggi Allora vorrei spendere due parole Quello che rimane di questo ora Per dirvi qualcosina sulla gravitazione Perché lo trovo interessante Allora il power point è fatto molto meglio Di quello che farò adesso Se lo prende più comodo Voi lo potete seguire con una lezione frontale Credo Allora Dovete sapere Che si sapeva già Dall'epoca di Newton La gente era già convinta Che i pianeti Per descrivere il comportamento dei pianeti Era più sensato Dire che giravano attorno al sole E non alla terra D'accordo? Poi Newton C'era Keplero Della generazione dopo Copernico C'era Keplero Keplero era contemporaneo di Galileo Quando è morto Galileo E' nato Newton Ok? Il Keplero contemporaneo di Galileo Aveva fatto una scoperta Molto interessante Che i moti dei pianeti Non erano dei cerchi Con il sole al centro Ma erano Ha fatto tre leggi Ha scoperto Ha enunciato tre leggi Una asseriva Che il moto dei pianeti Shhh Che all'epoca erano Mercurio Venere Ovviamente Copernico declassò la terra A diventare un pianeta Quindi tre Poi c'era Marte C'era Giove E c'era Sotturna Ok? Invece Urano e Nettuno E Plutone Sono stati scoperti Con i telescopi Quindi all'epoca Di Keplero erano questi qua E Keplero Capì che Che è il modo migliore Per descrivere il comportamento Dei pianeti La curva matematica Non era un cerchio Ma era un'elisse E l'elisse Ha una caratteristica Questa è un'elisse Che fa proprio schifo Ma ha due cosiddetti fuochi Quindi una delle leggi Adesso cerco di dirlo per bene Una delle leggi Keplero Asseriva che i pianeti Orbitavano attorno al sole Su traiettorie che erano Delle elissi Con il sole In uno dei fuochi Un'elisse ha due fuochi Quindi in uno di questi C'è il sole Cos'è un'elisse? Un'elisse E' la curva che si affarebbe Facendo questo Qualsiasi punto Sull'elisse Se l'elisse E' ben disegnato La definizione dell'elisse E' che presi due fuochi Fuoco 1 e fuoco 2 Prendendo un punto sulla traiettoria La caratteristica di questo punto E' che la somma di questa distanza Più la somma di questa distanza E' una costante Cioè per tutti i punti sulla traiettoria La somma di questa distanza Più questa E' lo stesso La somma di questa distanza Più questo E' sempre lo stesso numero La somma di questa Più questa E' sempre lo stesso numero Questa Più questa Questa è un'elisse E' un modo per disegnare un'elisse Mi ricordo quando ero piccolo Io alla seconda elementare Noi disegnavamo elissi Alla seconda elementare Perché è molto carino Prendete una tavola di legno Conficcate un chiodo qui E un chiodo qui Prendete uno spago Fate una curva chiusa La legate assieme Poi mettete lo spago In qualche modo A penzoloni Attorno a questi due chiodi Ovviamente è sul piano orizzontale Poi con una matita Tendete Lo spago In modo che Quando piantate la matita qua Lo spago è teso E' fatto così Lo spago Sta facendo il giro di questo E' qua Quando voi spostate la matita Quindi proprio spostate la matita Chiaramente questo non cambia mai E queste due si accorciano Si allungano In modo da dare sempre La stessa lunghezza Quindi voi potete tracciare con una matita Un'elisse L'avete fatto mai in vita vostra? Ah, l'avete fatto a che età? Io l'ho fatto a 7 anni Io l'ho fatto a 7 anni Un'altra legge di Keplero Questa è la prima legge di Keplero Che il moto dei pianeti Sono delle elissi Con il sole in uno dei fuochi Prima legge Elissi Sole in un fuoco Seconda legge E' un corollario Se volete Del prima legge E' che in tutti i pianeti Il sole è in uno dei fuochi E' del sempre lo stesso Vabbè Diciamo perdere Per vedere un dettaglio E' l'elissi Con il sole in un fuoco Seconda legge Questa è Voglio dire due parole Sulle prime due Perché voglio puntare sulla terza La terza La seconda legge E' un po' più difficile da esprimere Ed è l'idea questa Se questo è il sole L'altro fuoco Non lo rendo in grassetto Supponete che Il pianeta si trovi qua In un certo istante Fate trascorrere un intervallo di tempo E il pianeta si sposta E supponiamo che si trovi qua Poi dopo un certo lasso di tempo Quindi questo è il tempo Questo è T1 Dove si trova qua Questa è la posizione T2 Fate un certo intervallo di tempo Silenzio Mamma mia Se no lo do per dato Ok? Voi se conoscete le due leggi Che poi erano Fate trascorrere altro tempo Shhh Fate trascorrere altro tempo Questo è il tempo A un certo momento Immaginate che il pianeta Si trovi qua Ok? In un certo istante Chiamiamolo T3 Ok? Adesso Se voi fate passare Un intervallo uguale Di questo qui Quindi questo intervallo di tempo E' uguale a questo intervallo di tempo Questa pianeta si sarà spostato Ma di quanto si sposta? Ecco Allora Credo che un disegno valga Veramente a mille parole Allora Voi immaginate vedere l'aria Quando era nell'istante T1 Se voi piazzate l'origine qua Questo è il raggio vettore E' il vettore posizione Quando è qua Il vettore posizione è questo E al passare del tempo Questa freccia posizione Si sta spostando Quindi pensate A quest'area qua A quest'area Ok? L'area che è la freccia posizione Come potrei dire in italiano? Che individua Spazza? Che spazza Che spazza Al passare del tempo Quando lui passerà Dall'istante T3 a T4 Si sposterà In modo tale Che l'area spazzata Dal vettore posizione Sia uguale Adesso il disegno L'ho disegnato un po' Liberamente E non ha la pretesa Di essere fatta in scala Ma dovete immaginare Che L'area qua Dove essere uguale All'area là Cioè L'area spazzata In intervalli In tempi uguali E uguale L'ho detto giusto? Questa è la seconda legge Intuitivamente Cosa stai dicendo? Che quando il pianeta è vicino Lo speed è grande Cos'è lo speed? Lo speed è il modo La velocità Quando il pianeta è vicino Al fuoco Al sole Avrà uno speed molto veloce Quando è lontano Lo speed è più piccolo Quanto più veloce Quanto più piccolo In modo tale che L'area spazzata Dal vettore Posizione Sia uguali A parto di Fatta scuola In un intervallo Di tempo Questa è La seconda legge Ok? Poi c'è La terza legge Qui si ha aree Aree spazzate Spazzate uguali Si dice così? Spazzate Spazzolate Spazzate Così? Oppure Spazzolate 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 Non va bene? No Spazzate va bene? Si Terza legge Terza legge Si evidenzia qua La chiesa Chiesa Allora attenzione il tempo che impiega a fare un giro completo lo chiamiamo il periodo, ok? Chiamiamo R, come potrei dire cos'è R? Se volete R è la distanza media del Sole misurata lungo quest'asse, lungo l'asse che congiunge i fuochi, ok? Un'elisse dove i due fuochi coincidono è un cerchio quando un cerchio è poco ellittico vuol dire che i fuochi sono molto vicini, quando è molto ellittico vuol dire che i fuochi sono molto distanti, quindi un'elisse molto eccentrico, molto ellittico avrete fuochi molto distanti, un'elisse che è poco ellittico avrà i fuochi più vicini e un'elisse che dove i fuochi coincidono è un cerchio, sono tutti imparentati questi avete sentito parlare delle sezioni coniche? si, quindi non lo dico, sono parenti delle sezioni coniche quindi se questa la chiamate che so R1 e questa distanza la chiamate R2, la media di quei due è la R che appare qua, quindi in un cerchio è il raggio del cerchio e lui ha scoperto che i pianeti, se vuoi, ok lo do per buono basta, non vi quadro, poi lo chiederò l'onorale per posizionare lo faccio o no? lo faccio o no? lo faccio o no? state zitti solo che con questa pioggia tutto il tratto di umidità è schizzata su sto asciudando in maniera impressionante da pochi minuti apriamo? si in realtà Crutone è stato recentemente declassato il periodo lo esprimo in unità terrestri quindi anche sono chiamate unità astronomiche oddio, qual'è il diametro terrestre? dell'orbita terrestre? un lapso, scusate, 150 milioni di chilometri possibile? o un lapso terribile, non ho controllato comunque la distanza media del sole dalla terra quella distanza la chiamano un'unità astronomica, ok? quindi se volete io sto per scrivere i raggi delle orbite dei pianeti in unità del raggio dell'orbita terrestre mi sono dimenticato di guardare il numero certamente il numero è colluso dalla fina sera mi sembra che sia il 150 milioni? però qualcuno che è in rete adesso me lo può controllare allora il periodo di mercurio espresso in anni quindi io esprimerò i periodi in unità del tempo che impiega la terra a fare un giro, ok? quindi è 0,241 il raggio dell'orbita di mercurio è 0,39 a Venere è a 0,615 0,72 la terra ovviamente è 1 è 1 Marte è a 1,88 e il raggio è 1,52 Giove è 11 anni, quasi 12 e 5,2 Saturno su quasi 30 anni 29,5 andiamo a 2,5 questa rara è 2,0 due cifre si capisce è 9,54 Urano è ben 84 anni e del 19,18 è 1 e ben 165 anni ed è a 30,06 qui c'è il numero che ho trovato 248 anni e che ha 39 e 44 ok? va bene? allora voi prendete la vostra calcolatrice perchè qua nel mio quaderno ho p quadro diviso r cubo fate r cubo diviso 3 è la stessa cosa quindi calcolate r cubo diviso p quadro ok? fatelo e troverete un numero che è molto vicino a 1 ah io ho il mio quaderno qua t quadro diviso r cubo quindi vi riporto questo che è l'inverso però siccome non voglio farlo per esempio Mercurio è 0,98 quindi entro al 2% vicino Venere è 1,01 la Terra ovviamente è 1 questi questi discorsi Giove è 0,99 dove è Giove? dove è Marte? Marte è ho perso le righe qua 1,01 è Marte Giove è 0,99 Saturno a me è venuto fuori 1 Nettuno è venuto fuori 1 e Plutone vabbè qua mi sono perso le righe qua Giove Saturno Urano Nettuno a me è venuto fuori 1 e anche Plutone però ho fatto i conti rapidamente l'anno scorso ragazzi questo secondo anno è vecchio di 2 anni quindi verificate comunque l'idea è che sono molto vicini a 1 tutti questi numeri sono molto diversi l'uno dall'altro però se costruite questi rapporti viene fuori una cosa anche questa è la scoperta di Kepler che ovviamente lui aveva visto solo questi numeri questi erano i pianeti di Kepler va bene quindi Newton ha fatto probabilmente un discorso di questo tipo io non l'ho mai letto in principio il libro di Newton quindi è una mia non è farina il mio sacco ho seguito il ragionamento di un collega in un libro tanti anni fa mi è piaciuto l'argomento il modo di ragionare e lo propongo agli studenti allora l'argomento è molto semplice e fanno un discorso semplificatorio cioè supponiamo che il pianeta abbia un moto circolare quindi non include la comunicazione degli analisi quindi facciamo finta di considerare una situazione dove ho un moto circolare col sole al centro e ho un pianeta è un moto circolare con un certo raggio e avrà un certo periodo e siccome sperimentalmente osservativamente io so che deve valere la terza legge di Newton perchè per il momento è già incluso le due la prima e la seconda è un cerchio e ovviamente il tempo che impiega spazzare che il vettore posizione impiega a spazzolare o spazzare aree è costante per il fatto che il pianeta si muove la velocità costante perchè immagino che tra qua e qua ci sia una forza che è rivolta verso il centro e siccome sto spostandomi lungo un moto circolare questa forza è sempre perpendicolare agli spostamenti quindi la velocità e la forza sono a 90 gradi la forza è 90 gradi quindi io so che l'energia cinetica non cambia quindi lo speed non cambia è un moto circolare con una forza centripella cambia la direzione ma non cambia lo speed quindi non cambiando lo speed so che vale anche la seconda legge di Kepler facciamo una pausa di 10 minuti